Ieri notte la tartaruga Caretta Caretta ha scelto la spiaggia di Acciaroli. Nella mattinata, invece, a segnalare le impronte all'Associazione Legambiente, sono stati gli additti alla pulizia della spiaggia il signor Beniamino e Giovanni. A sua volta Legambiente ha chiamato delle associazioni autorizzate a scavare per accertare la presenza del nido, che in seguito è stato confermato. Le uova sembrano al sicuro, ma in caso di necessità verranno spostate e si metterà alla schiusa, che dipenderà dalle condizioni climatiche. Se farà freddo ci vorrà più tempo, in caso contrario, entro i 40 giorni circa. Anche sulla spiaggia di Pestum, la Caretta Caretta, nei giorni scorsi, ha deposto il suo primo nido. Ad oggi i nidi in campagna sono 40, 8 ad Ascea, 5 a Palinuro, 7 a Camerota, 2 a Monte Corice, 1 a Castelabate, 1 a San Mauro Cilento, 1 a Salerno, 1 a Casalvelino, 1 a Pestum ed 1 ad Acciaroli, mentre a Castelvolturno, sono 12 i nidi di Caretta Caretta.